Nelle acque calme del Golfo degli Angeli, davanti a Sant'Elia e alla Sella del Diavolo, la Follow Me Cup, una veleggiata interamente dedicata a 30 persone non vedenti e ipovedenti. L'iniziativa è stata organizzata da WISP Cagliari APS, ente di promozione sportiva e associazione di promozione sociale, con sedi nel capoluogo di Regione e a Carbonia. Le imbarcazioni, gli equipaggi e gli istruttori sono invece stati messi a disposizione da Avas, armatori vela d'altura a Sardegna. Non una competizione sportiva, ma una giornata nella quale si è rinnovato un forte messaggio di inclusione e superamento delle barriere, perché lo sport può essere praticato da tutti, indipendentemente dalle proprie capacità, ha commentato Pietro Casu, presidente del comitato WISP di Cagliari. Alla veleggiata, al timone di una barca a vela, ha partecipato anche Santino Gitto, responsabile delle politiche sociali di WISP Cagliari APS, anche per lui l'emozione di navigare nel mare di fronte alla città.